I libri e i giornali al tempo del web, al tempo della digitalizzazione, leggo un meraviglioso articolo sul quotidiano romano della Repubblica. Io questo meraviglioso articolo ve lo metto come digno di questo video. Il quotidiano romano della Repubblica ha incaricato di scrivere l'articolo ad un esperto americano. Magari il quotidiano romano della Repubblica l'avrà propagato profumatamente questo esperto di informatica, è un grande esperto, che ci ha descritto come è cambiata la lettura dei giornali e dei libri al tempo del web, al tempo della digitalizzazione. Caro quotidiano romano della Repubblica, potrei anche spendere di meno o anche spendere quasi niente, invitarvi Serafino Massoni a scrivere l'articolo, l'articolo relativo a come è cambiata la lettura dei giornali e dei libri al tempo della digitalizzazione, al tempo del web. Io sull'argomento mi sono espresso già tante volte, se la gente legge di meno o legge di meno sia i giornali che i libri, la colpa non è della digitalizzazione, la colpa è del fatto che i giornalisti e gli scrittori non sono più capace di scrivere articoli e libri che invitrino alla lettura. Se i quotidiani italiani, il plenis, la Repubblica, si decideranno a servirsi degli articoli che potrebbe scrivere Serafino Massoni, se i grandi casi libri si decideranno a pubblicare i libri di Serafino Massoni, di Serafino Massoni, e vedrete che la gente tornerà nelle dicole a comprare i giornali e non vedebbe lì a comprare i libri. Capito caro quotidiano romano della Repubblica? Perché hai scelto tanti soldi per andare a pagare magari profumatamente un articolo di un grande esperto americano di digitalizzazione, informatica di web? Ma bastava che tu chiedessi a Serafino Massoni di scrivere un articolo. L'ha prescritto io un articolo caro quotidiano romano della Repubblica, sai? Perché io sono questo qua, ma sono anche tante altre cose quotidiano romano della Repubblica, sono anche tante tante altre cose quotidiano romano della Repubblica. Vabbè, la prossima volta che vuoi scrivere un argomento sulla questione della lettura ai tempi del web, ai tempi della digitalizzazione, non invitare più un costoso esperto americano, invita Serafino Massoni, capito? Che è questo qua. Va bene caro quotidiano romano della Repubblica? A te, a tutti voi cari amici che mi ha spuntato? Tanti cari saluti dalla Serafino del Serpente. Ok, ok, ok.